Dopo essi vivono, un film girato con pochi soldi, che faceva riferimento alle pellicole di fantascienza degli anni 50, Carpenter si occupa di un remake, pur non basandosi sulla sceneggiatura dell'uomo invisibile questo ne è comunque un chiaro omaggio. Il protagonista lavora in borsa e per un banale contrattempo diventa invisibile. Conosce una ragazza e sta per finire nei tentacoli di un pericolosissimo agente della CIA. Riuscirà con non poche difficoltà a risolvere il suo problema. Con le nuove tecnologie è stato possibile usare dei trucchi veramente singolari, come la visione dell'organismo del corpo umano.